ai parlamentari è stato impedito di entrare in commissione e lei doveva aprire questa seduta criticando questo atteggiamento dei colleghi del suo gruppo, così come doveva aprire questa seduta. Colleghi, per favore, colleghi, colleghi, smettetela di urlare. Collega Rosato non la sento, sta solo urlando ma non la sento. Collega Di Maio, lei mi sente benissimo, lei solo... Collega Fiano, la richiamo all'ordine. Collega Fiano, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Collega Fiano, la richiamo all'ordine. Collega Fiano, si allontani dall'Aula. Colleghi, colleghi, collega Fiano, si allontani dall'Aula. Collega Fiano, il comportamento che è assunto è inaccettabile. Si allontani dall'aula. Colleghi, smettetela di urlare. Devo sospendere la seduta. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.